Di certo noi il tempo per pisciare contro le persone in difficoltà non lo troviamo, anzi a volte ci dimentichiamo anche di farla perché sono talmente tante le cose che dobbiamo fare che ci dimentichiamo anche di quello. È il sindaco di Treviso a nome del lanci dei primi cittadini che si sentono offesi a rispondere a Fedez. Nel video del suo ultimo singolo il rapper ha inserito l'immagine di un uomo con fascia tricolore che urina sopra lo stesso cantante steso a terra dopo essere stato brutalmente picchiato. Immagini forti che fanno discutere e non sono state apprezzate dai sindaci che si sono sentiti chiamati in causa. Se c'è un'istituzione dello Stato che è vicina alle popolazioni e questo è proprio il sindaco e quindi rappresentare in generale le istituzioni con la fascia tricolore crediamo fortemente che sia irrispettoso nei confronti e parlo da presidente di Anci di quei 585 sindaci che servono la propria comunità, che hanno pianto insieme ai commercianti, che agiscono quotidianamente a favore dell'ultimo. Così Conte si rivolge direttamente al rapper. Quindi l'invito che faccio a Fedez è quello di avvicinarsi al suo sindaco e capire cosa significa fare il sindaco. Ecco che forse avrebbe scelto un'altra figura per rappresentare le istituzioni a livello generale.